Ci troviamo a Campobello di Licata, all'Istituto Comprensivo Bosco, con noi la dirigente Alessia Guccione, l'Istituto celebra l'Erasmus Day. Parteciperà inoltre al progetto Erasmus+, che riguarda solo 500 scuole in tutta Italia, quindi una bellissima soddisfazione. Sì, sicuramente. Oggi pomeriggio è per noi il nostro Erasmus Day, cioè la giornata scelta all'interno di una finestra proposta da Agenzia Nazionale Indire per celebrare il progetto più amato d'Europa, cioè il progetto Erasmus. La nostra scuola, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Campobello di Licata, vanta l'accreditamento. Alcuni mesi fa abbiamo ottenuto un sigillo che ci permetterà, nell'arco di un lungo periodo, fino al 2027, di poter pianificare ogni anno, previa presentazione di un piano di lavoro, delle mobilità. Quindi, in maniera differente da quelli che sono i progetti Erasmus annuali, ecco perché si tratta soltanto di circa 500 scuole in tutta Italia, di cui addirittura gli istituti comprensivi sono soltanto la metà. Quindi, possiamo dire che per noi è veramente un motivo di vanto, un fiore all'occhiello questo progetto. Avremo la possibilità, nel corso dei prossimi anni, di non soltanto garantire la mobilità agli alunni dell'Istituto San Giovanni Bosco e quindi di Campobello di Licata, e quindi anche di conseguenza i docenti che partiranno e andranno a formarsi per poter poi apportare qui, portare la loro competenza, ma addirittura potremmo accogliere le delegazioni straniere. Infatti, a breve, riceveremo proprio nel mese di novembre un gruppo di spagnoli che non solo parteciperà direttamente alla nostra offerta formativa, quindi alle attività curriculari, ma poi potrà conoscere la nostra bella Sicilia con tutto ciò che di artistico e culturale ha da proporre. Successivamente, tra febbraio e maggio, partiranno per la prima volta quindi dieci alunni della scuola secondaria di primo grado, poi altri dieci e dieci docenti selezionati per arricchire la loro competenza. Diciamo che il progetto Erasmus non è soltanto un progetto che serve ad accrescere le competenze linguistiche, ma a perseguire proprio l'internazionalizzazione, quindi quei valori di coesione sociale, di identità europea e di cittadinanza attiva che sono i valori fondanti del nostro piano dell'offerta formativa. Tra l'altro, per quanto riguarda l'istituto che lei dirige, si tratta di ragazzini di scuola media, quindi già questi scambi culturali, queste nuove esperienze, questa tenera età porteranno degli importanti risultati nella loro crescita. Sicuramente sarà un'esperienza che li segnerà per la vita, li formerà, perché cominciare già così presto a potersi confrontare con il mondo e quindi ad uscire da quello che è anche un piccolo centro e quindi accogliere questa opportunità è un'esperienza unica. Noi abbiamo veramente faticato per ottenere questo accreditamento, ringrazio tutto il team dei docenti che si è messo all'opera nei mesi scorsi, perché non è assolutamente facile e ritengo che insomma tutta la comunità di Campobello di Licata debba essere fiera di questo accreditamento. E quindi a novembre che arriveranno gli studenti spagnoli, dove staranno? Per quanto tempo staranno qui? Sì, staranno per una decina di giorni circa, saranno accolti dalle famiglie selezionate di Campobello di Licata, quindi anche questa è un'esperienza forte, importante, incisiva, perché ripeto l'Erasmus è un progetto in cui si dà e si riceve. Quindi la comunità di Campobello si preparerà ad accogliere gli spagnoli, saranno portati in giro alla Valle dei Templi, ovviamente a Catania, a Palermo, non mancano bellezze architettoniche, non mancheranno momenti di incontro con gli enti territoriali e con tutte le associazioni che si metteranno a disposizione della nostra scuola.